nella storia c'è stato un grande oblio ed è la verità che dio è padre e gesù è venuto a manifestarlo con la sua figliolanza nel vangelo secondo marco nel brano dove gesù chiama pietro giacomo e giovanni su un alto monte e si trasfigura davanti a loro c'è quindi una metamorfosi un cambio d'aspetto e appari in vesti bianchissime dopo un primo spavento leggiamo venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce questi è il figlio mio l'amato ascoltatelo la nube richiama la presenza di Yahweh sul monte Sinai e quindi è immagine potente della presenza di dio che come nel battesimo risuona dal cielo le vesti bianchissime di gesù richiamano inoltre quelle del vegliardo che siede sul trono celeste nella visione di daniele al capitolo 7 e mostra così il vero carattere di gesù dio in gesù che chiama figlio si rivela come padre ma soprattutto il suo amore nell'immagine delle vesti bianche che sono anche l'uniforme del martire nel libro dell'apocalisse rivelano il destino di gesù che vivrà la passione morte e risurrezione come segno dell'amore che dio ha per noi il ministero apostolico di pietro giacomo e giovanni dopo la risurrezione di gesù attraverso la chiesa nascente renderà di nuovo accessibile all'umanità la vita stessa di dio trasfigurata nell'eucarestia la pasqua terrena che celebriamo è come una trasfigurazione in attesa della pasqua perfetta che ce le celebreremo nella liturgia celeste nella trasfigurazione inoltre abbiamo il comando dello schemà l'imperativo ascoltatelo capire l'insegnamento di gesù nella folla dei rumori e delle voci è facile distrarsi e perdersi papa francesco quindi ci ricorda che in questo momento di quaresima accogliere e vivere la verità manifestatasi in cristo significa prima di tutto lasciarsi raggiungere dalla parola di dio che ci viene trasmessa di generazione in generazione dalla chiesa è un messaggio che riceviamo e possiamo comprendere grazie all'intelligenza del cuore aperto alla grandezza di dio che ci ama prima che noi stessi ne prendiamo coscienza questa verità si è manifestata nella nostra storia come scrive ernesto balducci in quanto dio è nella valle dell'umana sofferenza la dove si entra per amore questo amore accende in ognuno il nostro desiderio di vedere dio e come pietro giacomo e giovanni sul monte della trasfigurazione il discepolo di cristo pregusta nella messa domenicale la gloria del banchetto celeste e tutto ciò che non lo aiuta ad anticipare questo incontro come insegna san paolo sarà distrazione o perdita trasfigurazione è la parola della chiesa per noi in questa seconda domenica di quaresima